Il presidente del Piemonte Alberto Ciri oggi e domani nel VCO ha fatto visita anche al DEA dell'ospedale Castelli di Verbania. Presenti il consigliere Preioni, i vertici dell'ASL con la direttrice generale Serpieri, il direttore del DEA Grammatica che ha illustrato i due percorsi presenti per l'accesso al Dipartimento. L'incontro con un medico gettonista, Ciri ha parlato di necessità di invertire la tendenza sulla quale si sta lavorando e di un incentivo agli specializzanti per questi ospedali periferici. Ha evidenziato la necessità di portare gli studenti di medicina alla medicina d'urgenza, una delle specialità meno scelte. Il governatore Ciri ha scambiato battute con alcuni pazienti. Illustrata la parte nuova del DEA post-Covid, visita all'area Covid al momento fortunatamente non in uso e si è parlato della ricostruzione del nuovo DEA con il rifacimento dei nuovi ospedali del VCO. Che punto è l'ITER per i nuovi ospedali del Verbano Cusiossola? L'ITER è nel pieno rispetto di quella che è la programmazione della sanità del PNRR. Noi investiamo 13 milioni di euro specificatamente sul VCO, in particolare vanno nelle case di comunità di Domodossola, di Omenia e di Verbagna. Va nell'ospedale di comunità che è in corso di progettazione a Gravelonatoce e sui due ospedali di Verbagna e di Domodossola ci sono interventi per 200 milioni di euro. 100 milioni qui a Verbagna e 100 milioni a Domodossola. La volontà è stata quella di rispettare l'esigenza di un territorio che è montano, che è un territorio lacustre, diviso da strade complicate. Basta uscire e percorrere questa provincia per rendersi conto di quanto è meravigliosa ma anche di quanto è fragile nella viabilità e questo giustifica che noi facciamo due ospedali. Due ospedali che rimangono, su cui investiamo 100 milioni cada uno e su cui noi andremo a creare specialità sia da una parte che dall'altra in modo che siano specialità di livello per cui il livello superiore verrà selezionato in base all'uno e all'altro e sugli accordi che la nostra azienda porrà in essere insieme ai medici e insieme al territorio. Ma comunque saranno due ospedali di qualità assoluta che potranno permettere un presidio sanitario sui due territori perché sulla sanità delle persone vuol dire che non bisogna risparmiare perché se risparmi sulla sanità risparmi sulla vita e la vita dobbiamo investire sulla vita, non risparmiare. Dal territorio c'è stata una levata di scudi dei direttori dell'RSA con nucleo Alzheimer perché dicono che dopo i primi due mesi per le famiglie aumenta la retta sostanzialmente e con la nuova normativa regionale diminuisce l'assistenza. Voi come rispondete? Questo è un tema su cui abbiamo fatto investimenti importanti perché l'Alzheimer è una delle situazioni, delle patologie a me sempre più frequenti che accompagnano a me in modo quasi naturale molte situazioni legate agli anni che passano. Quello che è stato sperimentato ha dei punti di forza ma anche dei punti di debolezza e naturalmente come abbiamo sempre fatto i punti di debolezza li miglioriamo e quindi su questo garantiamo il massimo del nostro impegno perché le famiglie che hanno un malato di Alzheimer in casa non possono essere lasciate sole innanzitutto e soprattutto non possiamo pretendere che possano avere le risorse per farsi carico di costi che sono invece costi che in qualche modo l'insieme della sanità pubblica deve farsi carico.